cari amiche e cari amici di rossini tv bentornati bentornati sul canale 80 del digitale terrestre per parlare di gulliver e conoscere ulteriormente questa realtà così importante a livello cittadino valeria gianni buongiorno buongiorno a voi è un nuovo appuntamento che stiamo registrando esattamente all'interno di quello che è il reparto proprio destinato al al monitoraggio di tutto ciò che viene portato a voi dai cittadini valeria come funziona esattamente perché è importantissimo capire che donare è facile ma dietro al semplice gesto del donare poi c'è un'organizzazione incredibile per far sì che questi capi di abbigliamento per tutto quello che viene portato qui da voi in via toscana poi possa essere utilizzato esatto praticamente qua siamo nel reparto selezione e nel senso che il cittadino ci porta la donazione e poi un accurato lavoro viene eseguito dalle nostre collaboratrici perché comunque noi ci teniamo molto al materiale che poi portiamo a destinazione nelle nostre botteghe di redi di rossi e anche nei box che allestiamo qui all'interno del bottegone in via toscana valeria intendi piazza redi via vincenzo rossi sì scusate questi due punti sì perché io lo dico in automatico noi oltre la location di via toscana abbiamo il negozio in piazza redi dove per noi è la nascita perché noi 12 anni fa 13 anni fa siamo nati lì come primo punto di distribuzione poi siamo passati via vincenzo rossi 20 perché comunque volevamo cambiare quartiere perché abbiamo visto che il nostro fare portava beneficio e quindi abbiamo pensato di aprire un'altra succursale poi siamo arrivati qua in via toscana dove comunque troviamo da lago al filo e una volta che facciamo la selezione diciamo in via toscana abbiamo il punto dove anche le famiglie bisognose possono prendere l'abbigliamento gratuito per ogni componente familiare diciamo limitato a stagione quindi ogni stagione 44 elementi di abito e quindi abbiamo fatto questa suddivisione e qui in questo reparto c'è di tutto di più libri giocattoli come potete vedere arrivano le buste non le accattastiamo e poi fisicamente vengono aperte e vengono presi capo per capo controllato messo le taglie come in questo modo qua per aiutare anche al cittadino perché se noi mettiamo tutte assieme poi andare a trovare la s la m quant'altro diventa difficile allora cerchiamo di dare una minima assistenza al cittadino nella confezione per rendere la scelta più più lineare quindi c'è un lavoro di selezione cioè tutto ciò che viene portato viene visionato capo per capo pezzo per pezzo ci si rende conto se effettivamente può essere destinato al riuso e una volta fatto questo viene anche catalogato e repartizzato a seconda di quello di cui si tratta e addirittura per esempio nel nell'abbigliamento ma lo vedremo anche nelle scarpe numero per numero taglia per taglia esatto sì per facilitare poi la scelta del al cittadino e diciamo questo ciclo di controllo non dimentichiamoci mai che comunque viene coordinato dalle nostre collaboratrici insieme alle persone speciali cioè non perdiamo mai il concetto che gulliver progetto riuso è un'isola dove tutti sono uguali quindi noi dalla selezione di una maglia o di un capo facciamo collante diamo diciamo espressione alle persone speciali che cercano di essere integrate nel sociale nella società nella vita di tutti i giorni e quindi questo è fondamentale ecco infatti pensavo mi veniva da riflettere su questo valeria qui si fa selezione di tutto meno che di persone nel senso che le persone non vengono selezionate ma vengono accolte sì che non ci sono differenze come dovrebbe essere sempre in qualunque situazione della nostra vita esatto esatto e noi giornalmente ci alziamo con questo senso qui siamo tutti uguali e quindi lavoriamo tutti assieme non è semplice perché comunque anche controllare capillarmente una montagna di donazioni che speriamo che ci siano altre montagne di donazioni perché come dicevo in precedenza quello che noi economicamente al netto dei costi riusciamo a realizzare da questo ciclo da lago al filo poi rivengono reinvestiti con progetti gratuiti nella città quindi la nonnina che mi dà la giacca che per lei era fondamentale perché aveva fatto ricamo dieci anni fa all'uncinetto noi lo guardiamo lo controlliamo lo mettiamo a disposizione ci facciamo economia e con quei soldi lì ci compriamo esempio i giochi nel parco dove il nipote di quella nonnina passa i pomeriggi a giocare in sicurezza quindi è questo il messaggio che deve uscire al cittadino pesarese noi siamo qui per questo cioè per condividere per fare unione e per fare c'è un cerchio tutto tondo come si dice lo dicevamo prima di cominciare qui economia circolare diventa un qualcosa di concreto l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti ma qui davvero si passa dalla teoria alla pratica esatto sì è vero e poi adesso ce lo racconteranno anche le collaboratrici perché oltre alla teoria alla pratica chi è qui con noi nel progetto riuso gulliver lo fa per un motivo di senso che è prioritario su tutto poi c'è la selezione però qui chi viene nel progetto riuso gulliver ed è anni che qui con noi lo fa comunque perché c'è un senso vero di partecipazione e di aiuto e dare una presenza una parola prendere per mano chi magari fino a un anno fa era isolato da solo in casa quante persone collaborano qui in questa sezione allora in questa sezione più o meno sono una decina tra dipendenti volontari alcune volte capita anche che ci sono ragazzi che devono scontare le ore socialmente utili che magari aiutano me il sabato mattina a fare la selezione delle scarpe esempio perché comunque qui ci sono delle regole io ci tengo a precisare ci sono delle regole che tutti devono sapere devono rispettare perché cominciamo a essere tanti quindi avere una educazione di convivenza rende la vita più facile a chi viene dopo di me a chi viene nel turno dopo di me che sia dipendente volontario o chi che sia e la pulizia l'ordine le scatole devono essere aperte in un certo modo perché comunque anche marche multi servizi che ci viene a prendere a svuotare i cassonetti ci viene una volta alla settimana quindi se le scarpe o le scatole vengono buttate tutte così non arriviamo quindi ci sono per ogni cosa le proprie regole e qui è è un cerchio che va da solo fortunatamente perché chi opera in questo settore come in altri settori cioè fa il progetto proprio quindi una volta che hai detto cioè va direttamente nella gestione e nel nel modo di fare e quindi è bello questo molto bello valeria adesso andiamo a riconoscere le persone che fanno parte di questo cerchio certo certo monica biondi dipendente da tre anni di gulliver onlus dopo altre esperienze lavorative e anche dopo un periodo diciamo di rodaggio nel quale hai fatto la volontaria come definiresti questa tua esperienza in gulliver allora questa mia esperienza in gulliver è stata veramente positiva mi ha arricchito di tante cose e io ho sentito dopo il mio lavoro lavoravo in agenzia viaggi e ho sentito il bisogno di fare qualcosa per gli altri e quindi sapevo che alla vule a gulliver cercavano volontari e mi sono proposta l'ambiente mi è piaciuto subito mi piacciono i progetti che svolgono e io ho iniziato con prima ero in via rossi al negozio di via rossi e poi sono venuta qua alla selezione e oggi sono al reparto abbigliamento capita che posso stare anche al reparto giochi e noi ringraziamo tanti il cittadino per le donazioni che ci fa perché ci aiuta poi a contribuire per sviluppare i nostri progetti che sono veramente tanti al quale sinceramente ci danno gratitudine certo c'è questo proprio senso di appartenenza della città che riconosce in gulliver il ruolo sociale che svolge cosa fa esattamente qui per esempio quando arriva una donazione come si svolge il lavoro allora noi non facciamo altro che aprire il sacchetto lo apriamo il capo lo controlliamo che non ci siano buchi che non sia macchiato che sia perfetto praticamente o comunque che sia possibile metterlo esatto lo ripieghiamo e lo dividiamo per stagione qui la stagione estiva questa è la stagione invernale giusto perché è importante anche dividerlo per stagione non solo taglia ma la stagione perché ci si ritrova che poi alla fine in scatoliamo là ci sono tutti pantaloni estate giacca inverno camicie estate o camicie inverno a seconda del tipo di tessuto e dell'abbigliamento che è dicevi che lavoravi in un'agenzia viaggi ma quindi ti sei ritrovata perfetto qui con i viaggi di gulliver è vero esatto mi viene proprio da dire una fantasia dietro l'altra esatto grazie Monica grazie a voi buona giornata grazie Cinzia Severini un'altra dipendente di gulliver una storia simile a quella che abbiamo appena conosciuto con Monica perché tu qui eri volontaria e poi ti sei aperta l'opportunità di diventare dipendente di gulliver ovviamente dietro a questo c'è una scelta di vita certo sì sicuramente io sono qui da circa quattro anni ho iniziato come volontaria poi ovviamente qui è un ambiente in cui ti innamori delle persone che lo gestiscono e di tutte le persone che ci sono dentro perché siamo praticamente una grande famiglia abbiamo diversi ragazzi speciali con cui abbiamo a che fare tutti i giorni ed è una gioia questa quindi oltre al lavoro che facciamo è proprio anche una cosa che ti riempie il cuore tutti i giorni per cui questo è un bellissimo posto non è un lavoro come gli altri e quindi sicuramente è una scelta quindi qui c'è umanità interazione con le persone condivisione di obiettivi qui per esempio cosa facciamo qui mi pare che sia il reparto casalinghi qui il reparto che chiamiamo oggettistica oggettistica quindi sì dai casalinghi a tutto quello che può essere dal vaso ai bicchieri anche piccoli oggettini che arredano la casa diciamo noi la selezioniamo gli diamo un piccolo valore che poi mettiamo in esposizione nel nostro capannone e molte volte ci aiutano anche i nostri ragazzi a sistemarle nel migliore dei modi cerchiamo insomma di dare il massimo di sistemazione da noi c'è un'organizzazione dietro non mettiamo sulle cose un po' così a caso cerchiamo di fare il meglio ecco in modo da anche il cittadino si ritrova con magari le sue donazioni sistemate certo perché è una soddisfazione anche per chi dona poi magari vedere le proprie cose alle quali viene attribuito un valore hai parlato di questo qual è il concetto come viene attribuito questo valore in funzione della funzione degli oggetti in funzione di come sono conservati cioè questo valore da dove nasce? sicuramente sì certo sì dall'oggetto in sé ovviamente perché ci sono cose anche diciamo preziose tra virgolette ci sono cose che ci donano anche che hanno un valore per cui noi valutiamo in base al pezzo ecco poi gli diamo ovviamente un piccolo prezzo noi perché siamo da noi sono donazioni per cui però abbiamo bisogno di un ricavato per mandare avanti tutta questa cosa c'è tutta la struttura perché poi si fa tante cose con quello certo infatti sì sì i progetti che vengono realizzati grazie a ciò che il riuso riesce a produrre sono importantissimi per chiudere Cinzia c'è una storia familiare tu anche qui dietro perché in realtà anche tuo figlio è stato qui facendo il servizio civile questa cosa così astrusa che invece si ha portato dentro diversi ragazzi per cui anche lui ha approvato è entrato con il servizio civile è stato qui un anno perché quello dura un anno e poi ha deciso di rimanere è stato un altro anno con noi perché poi solito anche lui si è trovato bene qui è una bella famiglia ovviamente è un ragazzo giovane c'ha una ventina di anni adesso ha trovato altre opportunità altre prospettive di lavoro e ha cambiato a malincuore però perché le è dispiaciuto tanto sì ma poi secondo me te lo dico proprio così è insomma vent'anni voleva anche un po' fuggire dalla mamma ma ritrovarsi la mamma anche qui dopo era troppo quindi via anche quello giustamente giustamente poi è giusto che facciano anche percorsi e esperienze diverse però rimane sempre che qui ogni tanto dice adesso vi vengo a trovare perché comunque è stata una bellissima esperienza è rimasto affezionato grazie Cinzia certo grazie a voi grazie davvero Nadia Battisti una lunga esperienza nel commercio eri in un negozio quindi hai vissuto contatto con la gente a un certo punto hai concluso l'attività hai deciso di darti al volontariato e da un anno sei qui in Gulliver esatto come ti trovi? benissimo mi trovo benissimo anche perché l'ambiente è fantastico e familiare e dal momento in cui sono entrata qui alla Gulliver sono rimasta affascinata diciamo da questo da questo mondo anche perché nessuno ti come diciamo noi ti sta sopra a controllare tutto per tutto anche se è tutto controllato però la possibilità di fare di tutto di più e infatti Valeria mi ha mi ha dato questa mansione tutto fare o tra virgolette jolly e mi ha insegnato tutti i settori tutti i riparti di conseguenza dovesse mancare una persona ci sono io tra virgolette poter sostituirla quindi nel caso del bisogno nel cibo l'oggettistica o nell'abbigliamento nelle scarpe in qualsiasi settore diciamo in qualsiasi angolino posso nel computer nell'ufficio qualsiasi cosa diciamo riesco a gestirlo e mi nasce spontanea una domanda però in realtà ci sarà una tua preferenza jolly ma qual è la parte che ti piace di più? mi piace molto stare alla cassa quindi a contatto diretto contatto con le persone, col pubblico, col cliente e sì quello mi piace perché proprio mi piace parlare, mi piace avere a che fare con il cliente finale quindi sì, è un cliente finale che effettivamente è un fruitore di tutto quello che questa realtà offre e qui ce n'è davvero tanta di possibilità di trovare piccole cose che possono servire tutti i giorni assolutamente sì c'è di tutto di più, tutto quello che possiamo trovare dentro casa ma anche al di fuori quindi qualsiasi cosa qui si trova assolutamente anche cose molto belle, molto quindi di conseguenza anche io mi innamoro delle cose che troviamo qui, cioè che abbiamo in donazione e mi innamoro di tante cose ma cerco di non portarla a casa perché se no riempio la casa se è un punto da capo insomma e beh dopo magari le compri e le riporti, no? così veramente sì è un giro economia circolare, le tieni per una settimana e poi le riporti e poi le riporti, sì c'è la possibilità di fare anche questo assolutamente sì grazie Nadia grazie a voi, grazie, buona giornata Alessandra Pari, buongiorno buongiorno psicologa, psicoterapeuta, dal 2019 dipendente di Gulliver una grandissima passione per quello che fa e che vive tutti i giorni sì io sono qui dal 2019 quindi dall'apertura del capannone e come dicevo appunto sono psicologa e psicoterapeuta per cui mi occupo prevalentemente di quello che riguarda tutta la parte dell'inclusione, inclusione che riguarda appunto vari aspetti sia dell'includere e far sentire accolti forse è più bello il termine accoglienza accogliere tutte le persone che vengono qua e che vengono, si presentano con una richiesta che può essere una richiesta, va bene, il cibo può essere il vestito ma può essere anche solo di fare due parole perché a volte c'è bisogno anche di quello quello che noi notiamo negli ultimi anni è che non solo c'è l'esigenza magari economica ma proprio l'esigenza di relazione, l'esigenza di un confronto, l'esigenza di un dialogo di qualcuno che ti accoglie con un sorriso e credo che il complimento più bello che venga fatto è quello che noi le accogliamo col sorriso ma se tu dovessi declinare questa parola inclusione è un termine molto ampio, anche molto per certi versi generico che delle volte può anche essere confuso nella sua sezione ma cosa si intende dal tuo punto di vista? inclusione, cos'è veramente? allora, l'inclusione è far sentire una persona accolta, a proprio agio e penso che la cosa più importante che gli venga trasmesso ai ragazzi perché poi magari parleremo anche di cos'è qui prettamente l'inclusione è di farli sentire a casa, di farli sentire in un ambiente come può essere quello di casa loro in cui tutto ciò che fanno, nel bene e nel male, va bene perché spesso sono... allora, mi fermo un attimo nel senso che l'inclusione, di quello di cui io mi occupo prevalentemente che cos'è? Sono appunto questi TIS che significa tirocinio di inclusione sociale sono tirocini che possono essere finanziati dal comune, dalla regione, provincia insomma, quello che è e di ragazzi che di solito noi chiamiamo speciali ma che comunque sono ragazzi che magari presentano una fragilità un pochino in più rispetto a quello che è un po' la consuetudine insomma, perché dire normalità mi pare veramente brutto la normalità è un concetto che in realtà non esiste molto relativo esatto, non in primis quindi parliamo di ragazzi che possono arrivare da vari canali che possono essere i servizi territoriali di psichiatria possono essere i servizi sociali del comune di Pesaro quindi più o meno i canali sono questi gli assistenti sociali delle realtà quindi territoriali ci fanno questa proposta di accogliere questi ragazzi qua e dare loro un'opportunità diversa un'opportunità che diventa comunque lavorativa perché comunque loro qua vengono per fare un lavoro quanti sono? quanti ce ne sono? allora, al momento dovremmo essere circa una decina una decina? una decina che si alternano tra mattino, pomeriggio prevalentemente qua anche se una delle ragazze in realtà è nella bottega di Piazzeredi vengono qua e ovviamente ognuno ha la sua mansione Alessandra, infatti è su questo che volevo un attimo approfondire questi ragazzi in realtà per i compiti che gli vengono dati per le mansioni che devono fare sono bravissimi ah, sono del tutto autonomi poi nel senso che chiaramente ci vuole una fase iniziale in cui ai ragazzi gli viene spiegato di che cosa si devono occupare che cosa fanno di che cosa noi abbiamo anche bisogno però in base a quelle che sono le loro caratteristiche perché ovviamente non tutti possono fare tutto perché comunque c'è anche e questo vale per tutti vale per tutti e ci deve essere da parte nostra un'iniziale, diciamo così, conoscenza un po' di quello che noi vediamo direttamente dall'osservazione nostra prevalentemente forse la mia e quelle che sono le indicazioni che i servizi già ci danno perché loro magari li conoscono da più tempo in alcuni casi noi abbiamo modo di conoscere anche le famiglie e quindi chiaramente si crea una sinergia tra tutte le varie figure e si cerca di dare a loro l'opportunità di fare qualcosa in cui loro si sentano capaci e quindi non tutti possono fare tutto dopo una fase iniziale quindi di osservazione, di conoscenza gli viene insegnato, diciamo così o comunque si fa insieme quello di cui si devono occupare dopodiché poi viaggiano da soli al punto tale che ci è capitato negli anni perché poi ci sono ragazzi che alcuni sono qui con noi dal 2019 altri nel tempo hanno trovato altri percorsi altri sono qui solo per pochi mesi perché ovviamente non tutti hanno la stessa tipologia di tirocinio e in alcuni casi quelli diciamo più vecchi che erano qui da più tempo hanno fatto da tutor agli altri ai nuovi arrivati perché adesso tipo ci sono alcuni ambiti che può essere che ne so dove vengono divise i casalinghi appena arrivano per il lavaggio e via dicendo abbiamo Elena che è qui da noi da anni e quindi è assolutamente in grado di occuparsi dei nuovi arrivi e quindi di dare indicazioni quindi è un tutor che fai da tutor esatto proprio peraltro si diventa quasi delle piccole istituzioni in conclusione Alessandra ti volevo fare un'ultima domanda ovviamente c'è anche un tuo rapporto con le persone che poi vengono qui da fruitori e che quindi per un qualunque motivo nella loro vita a un certo punto magari hanno delle necessità e tu accogli anche loro beh certo nel senso che allora una parola c'è sempre per tutti nel senso perché sia i ragazzi di cui parlavamo prima ogni tanto hanno necessità magari di anche fare due parole in più che non sia solo legata alla loro mansione legata alla loro vita alla loro situazione familiare, personale quindi ci prendiamo, ci ritagliamo del tempo magari per anche parlare di qualcosina in più creare un rapporto chiaramente non è un rapporto terapeutico perché quello viene fatto in altre sedi poi magari alcuni di loro sono seguiti anche da questo punto di vista e quindi si tratta di dare una parola di conforto in più che viene fatta anche verso le persone che vengono appunto qua in altre veste insomma che vengono per acquistare qualcosa che vengono per ritirare magari del cibo e via dicendo a volte hanno necessità appunto anche loro di confrontarsi o di avere una parola di qualcuno che li possa ascoltare perché credo che è veramente un problema generalizzato proprio il bisogno dell'ascolto e poi va bene se quello rientriamo anche in un altro settore ma è assolutamente vero io mi capita spesso di dire che noi abbiamo due orecchie e una bocca dovremmo dedicare il doppio del tempo all'ascolto piuttosto che a quello del parlare ultimissima domanda Alessandra ti sei sentita inclusa in questi cinque minuti? ah sì assolutamente assolutamente beh è il mio mondo ormai è parte del mio mondo perché io comunque sono qua tutte le mattine sono iniziato come volontaria per scelta e poi ci sono rimasta perché per me è un'altra famiglia benissimo e quindi assolutamente e noi siamo contenti di aver contribuito a questa inclusione reciproca grazie Alessandra grazie buona giornata Barbara Rossi volontaria di Gulliver in un ruolo importantissimo di cosa ti occupi esattamente qui nell'ambito della Onlus Gulliver? io mi occupo della giustizia riparativa seguo questi ragazzi che fanno parte di questo progetto della Onlus Gulliver la giustizia riparativa che loro vengono qua a fare le ore che hanno avuto socialmente utili ecco li seguo e faccio un po' da tramite tra i loro avvocati o assistenti sociali io li seguo qua controllo le loro presenze i loro comportamenti ecco insomma tutto l'iter di questo progetto si conclude al meglio e quindi un ruolo di grande responsabilità perché fra le finalità di Gulliver c'è anche quella proprio della inclusione c'è questo progetto e la possibilità cioè si danno possibilità a tutte le persone senza distinzioni di poter fare un percorso di crescita si che devono scontare piccole pene non gravi ecco diciamo e vengono qua e dopo qua cosa fanno? possono fare di tutto? allora qua possono fare accogliere le persone che arrivano a donarci le cose loro oppure sistemano aiutano insieme agli altri ragazzi che stanno qua alla Onlus a sistemare i mobili vestiti giochi oppure alcuni vanno insieme alla squadra della Onlus a recuperare mobili con il camion oppure li portiamo quando li vengono ad acquistare sistemare il box alimentare ecco tutto quello che fanno tutti fanno anche loro loro possono seguire e fare tutto esatto quindi anche per loro c'è questo ruolo di jolly tutto fare esatto probabilmente con queste persone si crea anche un rapporto un legame che probabilmente resiste anche nel tempo e quello è il bello perché quando arrivano qui sono sempre un pochino titubanti entrare in questo questa grande famiglia poi si accorgono invece che noi trattiamo per noi loro sono tutti uguali a prescindere da quello che abbiano fatto o no e quindi piano piano si instaura anche un rapporto personale cominciano anche a raccontare cose personali loro ecco il bello è questo certo che alla fine anche quando poi vengono che hanno finito tutte le loro ore molto spesso portano i pasticcini si fa ecco questa è la festa esatto tu l'hai detto molto bene per noi sono tutti uguali in realtà proprio le persone sono sempre tutti uguali e più che mai in una realtà come questa deve essere così perché è una grande opportunità anche per loro esatto però magari arrivano con la paura di venire qua e essere giudicati invece no proprio non si sente questa cosa e me l'hanno poi comunicato in molti dopo la mancanza di giudizi è una delle cose più belle perché giudicare è veramente esistono i giudici ma si chiamano giudici rispettano le leggi rispettano i codici qui non esiste qui non parliamo di leggi noi qui giochiamo scherziamo lavoriamo come tutti uguali tutti uguali tutti uguali grazie Barbara grazie davvero per le tue parole che ci fanno comprendere una volta di più cosa intenda Gulliver volevi fare una conclusione vero? che questo progetto come tutti gli altri progetti della ONLUS comunque sempre grazie al cittadino che viene qui e ci dona il suo pacco di vestiti il suo mobile che non usa più grazie anche al comune che anni fa ha dato fiducia alla ONLUS per seguire tutti i suoi vari progetti e nasce sempre dal cittadino insomma e grazie sempre a loro questo che a ONLUS Gulliver può portare avanti i progetti veramente nella massima applicazione del concetto di economia circolare inclusività socialità condivisione e solidarietà esatto grazie Barbara grazie a voi Valeria siamo arrivati a concludere questa visita questa visita ai luoghi alle persone di Gulliver proprio nella sede di Via Toscana 111 siamo in un reparto che è amatissimo ovviamente dalle donne quello del riuso delle scarpe che sensazioni hai dopo questo viaggio ti porti dietro delle emozioni che hai vissuto ancora una volta sì certo e anche perché ogni giorno venire qua al bottegone è un'emozione dopo 13 anni aver avuto la possibilità di fare questa descrizione nei minimi particolari diciamo di questa di questo locale di questa dimensione di questa realtà è per noi il progetto di riuso Gulliver è proprio una fierezza dal profondo del cuore e ringrazio comunque tutta la comunità che ogni giorno viene qua con un senso sociale ringrazio Andrea Boccanera il presidente che comunque insieme 13 anni fa abbiamo se si può dire concepito questo modo di vivere la vita in modo diverso e anche di aver contagiato le 50 persone che ogni giorno al progetto di riuso vivono e danno il meglio di loro con la responsabilità massima nel prendere il progetto come cosa personale con l'assistenza la psicologia la naturalezza il rispetto la delicatezza di crescere ogni momento del giorno e ringrazio anche le ragazze che sono nella location di Piazza Redi e di Via Rossi perché comunque loro ancora di più perché alla mattina aprono la bottega e la sera la richiudono con fierezza perché oltre a curare proprio la dimensione raccontano parlano illustrano le cose i progetti anche se magari in Via Toscana loro non ci sono mai ma è come se ci fossero quindi per loro va un doppio grazie perché qua siamo tanti ci si confronta si condivide si corregge si ride si piange si mangia invece loro hanno delle dimensioni che le fanno proprio personali e quindi le mandano avanti le puliscono le tengono in ordine sono responsabili di casse di economia e più che altro di parole perché comunque con tutte le persone che vengono anche là ci sono diciamo cittadini che magari hanno esigenze proprio di mancanza e quindi attingono e loro hanno veramente una responsabilità a 360 gradi e alla sera quando mi chiamano mi dicono vale è andato tutto bene madonna era ancora giorno fuori erano le 7.40 non mi sono ricordata di chiudere il negozio e questa è la testimonianza che comunque lo fanno col cuore che la giornata passa veloce in sintonia e quindi il progetto del riuso è tanta roba certo quindi pensate questo è un po' il cuore il cuore pulsante del progetto del riuso il bottegone i locali dove avviene la selezione del materiale di tutto ciò che viene portato dai cittadini e poi ci sono questi due terminali sul territorio in due punti diversi della città di Pesaro dove poter accedere tutti i giorni per comprare per acquistare qualcosa ma ovviamente si può venire anche qui Valeria si può venire anche qui ci sono tante persone che visitano i vostri locali e trovano davvero oggetti di qualunque tipologia di merceologia quindi è davvero un'idea straordinaria quella che avete avuto fatecelo dire grazie grazie